Chiudi anche con l'ultima operazione con una carta verde o cambi segno? Rimaniamo su una carta verde ma cambiamo mercato, ci spostiamo dall'altra parte dell'oceano, andiamo a Wall Street dove facciamo un'operazione a rialzo sulla mitica Tesla. Tesla? Una Tesla che insomma nell'ultima ora non è che abbia brillato molto a Wall Street ed è un eufemismo. Prima di vedere i livelli vorrei chiederti cosa ne pensi di quello che è stato il tema più caldo nelle discussioni social tra domenica e lunedì, ossia quel sondaggio fatto da Elon Musk sulla sua quota in Tesla e sulla possibilità di venderne una parte butad o cosa? Molto probabilmente è appunto così una butad come dici tu, anche perché non avrebbe molto senso una vendita di così tante azioni da parte sua. Detto questo chi se ne frega, nel senso che la mia visione su un'azienda come Tesla è talmente più di lungo termine che questo tipo di occasioni come il ribasso in questo momento che sta sfiorando il 10% sono delle occasioni d'acquisto a mio avviso, perché sappiamo che il titolo è comunque impostato a rialzo nel lungo termine e di conseguenza dei cali così repentini rappresentano da una sorta di saldi sulle borse. Quindi a mio avviso proprio il motivo per cui la mia carta è verde su Tesla è perché è proprio crollata in queste ore e siamo proprio sui livelli di ingresso Riccardo. E allora vediamoli questi livelli. Guarda in questo momento siamo a 1053 dollari, il mio punto di ingresso è a 1050, con uno stop loss a 1000, quindi ci giochiamo tra virgolette 50 dollari ad azione con un target di 1300 dollari per azione che in questo caso anche vorrebbe dire nuovi massimi storici per il titolo.